Ognuno di noi di fatto davvero rappresenta l'azienda, rappresenta qui il nostro logo, ma in realtà rappresenta i nostri valori. I nostri valori devono essere di unità, di forza, di spinta, di passione, di voglia di fare, di amore e oggi ognuno di noi compone un pezzo di azienda. In the sky, in the sky, time for the stars. In the sky, time for the stars.